Livio Gigliuto rimaniamo rimaniamo collegati qui io te e Mattarella che sarà lì in zona immagino io te e Mattarella non è lontanissimo non è lontanissimo e allora e allora e allora senti hai detto no Tudor non mi aspetto scusami non mi aspetto che arrivi Tudor non mi aspetto che arrivi Tiago Motta non ti aspetti neanche visto che Vincenzo Hamburgo che forse ci scrive dalla Germania oppure si chiama Hamburgo di cognome non lo so oggi c'è anche Pirlo Bis Palladino Sergio Consessao su questi tre fermiamoci a questi tre no 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 non ti aspetti che arrivi no Palladino Palladino è uno che mi aspetto possa arrivare anche se non ho capito Luca però su questo tu sei molto più informato di me ma ha rinnovato non ha rinnovato sono girate volte alladino in questo non ha rinnovato tra l'altro sale tra i miei top 3 largamente di tuo gradimento intendi sì sì mi piace moltissimo mi piace moltissimo lo stile credo abbia uno stile molto adatto al nostro mondo l'unica cosa è che ha litigato con Del Piero dice chi se ne frega però insomma se quella cosa saranno anche chiariti una roba di mille speriamo speriamo però una cosa che ha colpito molto no almeno io me lo ricordo sì sì la ricordo molto bene quella scena lì no sì assolutamente è una scena anche perché è immortalata le telecamere poi sai cosa era fuori cos'era fuori registro rispetto all'abitudine era Del Piero fuori registro era Del Piero è stato un rarissimo caso di Del Piero che mostra le sue emozioni le emozioni eh sì questo assolutamente quindi ho tenuto da parte Nagelsmann altro nome Vincenzo ma così nel senso nome pazzo che a te darebbe un un perché o dici mamma mia che roba non da Juve non sul livello beh il livello straordinario però io ti faccio il ragionamento Luca cioè dobbiamo capire che fase siamo siamo in una fase scusa tu non hai sentito Antonello Antonello dice da informazioni exor di prima mano di seconda mano di alto livello di medio livello non lo so non l'ha specificato però è venuto qua e c'è detto subito la parola chiave è comunque ridimensionamento ovvero portare in tempi più brevi possibile la Juve di nuovo con la stessa mission che il dottor Umberto dette a Giraudi Antonio sei un grande uomo qui ci sono le chiavi alla Juve sai che ci tengo e ci tiene la famiglia però non chiedermi soldi puoi fare tutto quello che vuoi e chiamo Moggi il giorno dopo che stava firmando alla Roma io lo dico sono un po' ripetitivo ma non tutti anche i più giovani magari queste storie la sanno Moggi aveva già preso anche Ferrara e Paolo Sousa per la Roma con un preaccordo tutte e due quando Moggi si spostano va alla Roma va alla Juventus porta tre due dei tre giocatori che aveva già in preaccordo il terzo non riuscì che era Fonseca che era Daniel Fonseca che poi arrivò a fine carriera a quasi fine carriera e quindi dice ecco allora il disegno ipotetico di oggi ce l'ho fatto nell'evole è questo con questi presupposti ti ho risposto alla tua possibile domanda se fosse questo lo scenario cosa ti aspetti? fosse questo lo scenario non mi aspetto Nagelsmann cioè io ti spiego Luca che cosa non mi aspetto io non mi aspetto tutte le cose che richiedono molto tempo e molta pazienza perché in un contesto così in cui non puoi spendere moltissimo devi costruire una cosa che funzioni abbastanza subito e non puoi rischiare troppo io penso che Nagelsmann da questo punto di vista si è rischioso ma si è visto anche al Bayern che è piuttosto rischioso Nagelsmann Andrei su una cosa più facile da costruire più facile da costruire io parto dall'idea che è giunto l'ESLDS ma Luca è giunto l'ESLDS non lo sappiamo sì forse ah se è in arrivo 100% io non modifico non ho non ho veramente una mezza cosa per dovervi modificare questa percentuale allora Luca se quella è la 0 e 0 100 e 100 tutto il resto eh tutto il resto 101 non vale perché così anche nei giorni me lo insegni tu me lo insegni tu ci provo ci provo quindi se quella è la pietra angola cioè se da lì si parte la cosa sicura è che bisogna andare dietro al modo di ragionare di Giuntoli io nel modo di ragionare di Giuntoli in questo momento immagino Spalletti quindi immagino una soluzione che faccia stare tranquillo Giuntoli che gli faccia avere anche un interlocutore perché poi Luca è questo il tema lo fece Marotta quando arrivò alla Juve poi con risultati non eccezionali però la cosa più importante è avere intanto un interlocutore di campo quindi avere un allenatore con cui c'è un dialogo per questo immagino più facilmente uno Spalletti o un giovane eventualmente un Dionisi con cui posso costruire un rapporto a zero noi sappiamo Nagelsmann che percorso costruirebbe con Giuntoli cioè questo mi chiedo è come quando sei in azienda vai in una nuova azienda e cerchi di portare con te qualcuno operativo che ti segua le cose di campo non prendi uno per o tieni quelli di lì e te li tieni e provi a lavorarci oppure porti da fuori ma se porti da fuori porti qualcuno che in qualche modo si leghi a te quindi o uno che conosci o uno che poi in qualche modo coinvolge nei percorsi coinvolge percorsi addirittura quasi coinvolge in un percorso di formazione non dico di formazione te lo cresci o te lo cresci o uno che conosce molto molto bene già questo è il tema Nagelsmann chi comanda tra Nagelsmann è giunto lì alla fine ti metti come si dice giù in Sicilia da cui vengo ti metti l'acqua in casa di questi tempi tra l'altro non è il momento tra l'altro no non solo nel momento rende l'idea no rende l'idea rende l'idea rende molto molto chiaramente purtroppo Palladino fidarsi e ricominciare ci scrive Malato Juve in Montblanesimo Andratos Reale Bianconero voglio salutare opinioni non richieste non sono richieste però intanto te le sei meritata e per questo ti dico Luca che Palladino sogna Zidane sogna Zidane eh vabbè ma quello tutti dai siamo partiti dal fatto che Zidane no e che De Zerbi ha 13 milioni di clausola quindi la vedo dura cioè partiamo da lì dal fatto che quei due è difficile da lì in avanti e allora vedo che in chat sei tentatissimo io ripartirei da italiano un nome su cui non ti ho fatto pronunciare Livio dal tuo punto di vista nel frattempo però ti lascio anche 30 secondi per riflettere la risposta giusta Red 5 go ahead 28 mesi c'è anche il bradipo rapido eh ossimoro incredibile che è un nuovo abbonato di questo canale di Juventibus consigliatelo a tutti i vostri amici e compagni di stadio o di partita o di chat Roberto 02 200 è un nuovo follower fault boy 18 mesi azienda alone 12 mesi buongiorno bella gente buon avvertimento del giornale Rosa avvertimento sul quale adesso coinvolgerò eh Livio italiano prego eh italiano allora italiano secondo me è tecnicamente uno dei migliori c'è un elemento positivo di italiano tecnicamente vuol dire anche tatticamente sì cioè lo ritengo uno molto bravo eh molto appassionato di calcio e non tutti gli allenatori grande lavoratore questo è agli atti pongo solo un tema proprio tattico a me sembra che le squadre italiane ma poi soprattutto la Fiorentina perché alla fine con quello che l'abbiamo conosciuto molto bene mi sembrano un po' sbilanciate nel corso della gestione della partita capito cioè nella finale con l'Inter quella partita l'ha iniziata la grande il tema è che ho sempre la sensazione che sia un po' sbilanciato proprio il modo di gestire la partita ma allora quest'anno la Fiorentina sicuramente fa fa effetto la doppia finale vediamo come andrà la seconda devo dire che i dati in campionato sono sono lo guardavo come freddo numero 14 vinte 12 pareggi e 13 sconfitte cioè praticamente come dire 10-10-10 io penso che il più dico una cosa strana io penso che il più juventino il più adatto ad allenare la Juve di quella generazione lì fosse purtroppo Mijailovic io penso fosse molto adatto ad allenare la Juve Mijailovic dici? sì perché ha un carattere fumantino come spesso hanno gli allenatori della Juve però sa stare al mondo sapevo sì mi dicevano io guardate il grosso di Sinisa ovviamente insomma che dire un abbraccione ovviamente ancora là però è stato un percorso così dicevo la cosa che avevo molto chiara e diretta era il periodo in cui ho allenato il Torino perché gli allenamenti al Torino sono molto più accessibili e soprattutto negli anni in cui c'era Sinisa lui voleva che il pubblico partecipasse agli allenamenti il Torino faceva la rifinitura in un paese qua appena fuori in seconda cintura ed era tra virgolette facile riuscire a venire a contatto con il suo lavoro da parte di tanti direttamente giornalisti che lo volessero anche se i giornalisti non erano graditissimi per i propri motivi però insomma se eri un buon giornalista ti sapevi muovere con le persone che c'erano dentro anche a detti ai lavori eccetera dal punto visto che prima hai citato il tecnico-tattico dal punto di vista tecnico-tattico c'erano alcuni che storcevano un po' il naso cioè senza stare lì a fare gli allenatori dire io sono migliori i miei i lavori che fa in settimana sono un po' poveri dal punto di vista di temperamento di come sta addosso ai giocatori benissimo però lamentavano questa cosa qua e vi parlo di addetti ai lavori del fronte Torino ma anche terzi quindi vabbè intanto mi stuzzica molto Tiago Motta c'è Good Hopps Pinochetibus Gasperini per la fase della Juve sarebbe l'ideale ma è una scelta troppo intelligente per questa dirigenza e forse non è uno che ti costruisci in casa ecco detto che volendo lui si è anche costruito in parte la Juventus però era un'era geologica fa ecco il tuo il tuo personale per Gasperini è un sì o un no? No è un no nettissimo su Gasperini nettissimo anche lui è uno che ha bisogno di tempo al netto delle simpatie antipatie perché con l'Atalanta non ha fatto impazzire alcuni atteggiamenti però lui ha bisogno di tempo e noi due anni tre anni non li abbiamo allora ho letto di tutto sul contratto di Vincenzo Italiano 23 opzione 24 clausola 10 milioni no non ha la clausola sì però è 24 con opzione 25 però può liberarsi alla parola alla sottofirma al promesso il contratto nudo crudo è giugno 24 con opzione 25 in mano alla Fiorentina non ci sono clausole quindi non puoi liberare l'allenatore solo pagando o obbligatoriamente pagando ok quindi da un lato non c'è una slot una cifra 2 4 5 10 leggevo con cui liberarlo ma dall'altro lato ovviamente se fosse questa poi un'idea concreta devi parlare per forza con la Fiorentina perché è un allenatore vincolato da un contratto che non è in scadenza per quanto riguarda io ho letto molto non so di live se magari avete avuto una giornata molto impegnata o non lo so la rassegna stampa prima pagina gazzetta oggi sui social ha comandato la reazione la reazione nel senso anche come è arrivata con fastidio ma anche qualcuno si è arrabbiato in maniera particolare qualcuno è anche andato oltre però su apertura è insomma la UEF vi diciamo noi della gazzetta vi diciamo cosa ha in testa e cosa intende fare la UEFA ok o arriva il benedetto passo indietro che evidentemente non è mai arrivato la famosa concertazione o le grandi diplomazie con l'UEFA attraverso il discorso Superlega non ci sono state e la UEFA dice o questo passo arriva ma a questo punto pensano anche loro che non arrivi da qui a un mese oppure noi per ripicca e per fastidio e perché siete testardi cocciuti ribelli non lo so scegli tu noi andremo con la mano pesante come non so se l'hai letta questa cosa sarebbe fonte UEFA e che effetto ti fa ma allora intanto sdoganiamo il ruolo di gazzetta che giustamente fa il suo nel senso che ha un'informazione e cerca di divulgarla come le è arrivata il tema è uno che ovviamente questa cosa speriamo tutti non sia vera speriamo tutti non sia vera perché non c'è dal punto di vista giuridico una cosa illeggibile cioè non esiste quindi è come sai quei cioè se questo titolone fosse stato fatto su qualunque altro tema legato alla magistratura sarebbe uno scoop straordinario e terribile perché cioè hanno già deciso che sarebbe una cosa un ricatto vabbè quello è sicuramente sicuramente non può essere scritto nessun libro di diritto è impossibile che venga scritta una cosa del genere che esista una cosa del genere ci scrivono qui in chat è legale ma ovviamente ragazzi ma se la FGC ma scusate ma se la FGC poi ti posso finire Luca sì scusami Reddish Reddish poi ti faccio finire Reddish se la FGC non risponde neanche alla costituzione italiana alla FIFA a chi risponde è legale una cosa del genere fin quando non c'è un pronunciamento da parte di un'istituzione transnazionale di livello politico europeo che dice oh ragazzi la FIFA avete fatto quello che avete voluto FIFA e UEFA avete fatto quello che avete voluto per 70 anni sappiate che da domani da domani non è più così nel senso che siete una zona libera eccetera rispondete secondo i canoni del che so diritto societario non ci interessa perché è vero siete anche in Svizzera ma agite per il 99,9% delle vostre cose fuori dal territorio svizzero rispondete che so alle leggi della comunità europea non lo so ecco questa benedetta sentenza anche dell'alta corte deve rappresentare più che stare lì a dire sì la superlega si potrebbe ma che a me poi queste cose è il principio che conta se no è certo è legale vale tutto vale tutto a chi rispondono su un'eventuale sentenza UEFA io dico che c'è forse il TAS che è stato capace a volte di dare delle interpretazioni e avere la forza di andare anche un po' contro quelle che erano le volontà della UEFA quindi io ho notizia fresca che la UE in caso di esclusione UEFA va al TAS me l'hanno detto stamattina ovviamente inverificabile per me in tempi brevi vediamo nei prossimi giorni la Juve va al TAS se qualificandosi per le coppe subisce una estromessione d'ufficio da parte dell'UEFA mi risulta altresì che ci sarebbero figure pronte ad andare al TAR che non sono solo limitate a arriva bene e paratici che sembra già da qualche settimana che è nell'aria che possano essere aver scelto comunque individualmente di rivolgersi al TAR per il procedimento subito in FGC a loro modo di vedere e a loro dire evidentemente ingiusto o comunque per i danni economici eccetera 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 io accolgo Livio tu puoi restare spero poi ti faccio finire tutto perché in studio abbiamo Luca Bianchin che è già stato ospite di questo canale ciao Luca grande piacere ciao piacere mio ciao a tutti facciamo una ventina di minuti proprio a rimbalzo insieme ti stai occupando ormai da diversi mesi di Milan e questo Juventus ovviamente vedo sempre e leggo il tuo lavoro quindi complimenti c'era c'è anche l'orizzonte di questo stranissimo Juve Milan che se la Juventus avesse fatto il suo a Empoli avrebbe forse scaldato di più almeno la sponda juventina non solo la sponda milanista e poi hai seguito la Juventus con grandissima attenzione quotidiana e precisione nel tuo lavoro fino alla scorsa estate poi è successo di tutto e allora ti chiederò anche magari un punto di vista da come l'hai vista da fuori avendola raccontata fino a ieri Luca da dove vuoi iniziare da Juve Milan o dalla fine? da dove vuoi tu? facciamo dalla fine è curioso perché anche prima sono successe delle cose nel bene e nel male sono stati quattro anni per me intensi sinceramente da Cristiano Ronaldo a quattro allenatori in quattro anni ad eliminazioni in Champions completamente inaspettate esoneri di allenatore in piena estate insomma sono successe tante cose certo che la compagnia di giudiziaria tu hai fatto quattro anni e la Juve ha sempre cambiato allenatore assolutamente affermativo allegro sì la parte giudiziaria l'ho vissuta anche io io ho seguito soprattutto Suarez Perugia mentre Fabiana Della Valle e Filippo Conticello che lavoravano con me hanno seguito Filippo la questione curva e Fabiana poi il processo che adesso vi occupa quotidianamente e poi lei ha preso il mio posto insomma sapete tutto da fuori diciamo che diciamo che si segue ovviamente con molta meno attenzione perché devo perché devo perché devo sicuramente lavoro per la Gazzetta dello Sport come chiede come chiede credo il vostro amico in sovraimpressione eh devo dire che mi ha colpito mi ha colpito perché conoscevo tutti i protagonisti in parte l'ho vista cominciare la questione plus valenze l'abbiamo ovviamente trattata nel periodo in cui però erano state considerate delle operazioni diciamo più all'interno della cerchia di quanto si fa e si faceva nel caso una famosa archiviazione una famosa archiviazione fino a lì poi io me ne sono andato quindi ho adesso meno competenza molta meno competenza per parlarne certo che è una parabola particolare una parabola non felice sono curioso di vedere come si ripartirà adesso perché vedo che ci sono insomma delle non so se definire attenzioni ma comunque dei dubbi su come si può seguire allora visto che tu negli anni hai anche sei stato addosso alla Juve anche nel nel veloce alla fine veloce il regno gli arriva bene interregno che poi non era non era l'unico regnante lo sappiamo però aveva in mano l'amministratore quella questa cosa qui e la cornetta e c'era John no quindi ti chiedo eh cosa hai pensato quando c'è stata le dimissioni in blocco del CDA cioè in quel momento tu già non facci più la Juventus però se quanto è rimasto sorpreso eh come avevi potuto apprezzare nel bene o nel male sportivamente parlando il lavoro di arriva bene in quei mesi è chiaro che mi ha sorpreso anche se ho imparato a capire che alla Juventus le cose succedono all'improvviso quando non te lo aspetti ti ricordi Peppe Marotta in zona mista dopo Juventus Napoli seconda di campionato seconda di campionato la mia seconda partita la Juventus l'amministratore delegato oltre che uno dei due a D oltre che tutto fare su mercato e squadra se ne andò in quel modo quando era nell'aria ma era nell'aria da due anni che Marotta potesse andare via dalla Juventus però non succedeva mai e che succedesse così non se lo aspettava nessuno ho imparato è chiaro che è uno shock la fine dell'era Andrea Mielli insomma non dimentichiamo quello che è stato nove scudetti in nove anni un giorno si tireranno dei bilanci quando si parlerà dei presidenti più vincenti della storia del calcio italiano ci sarà anche lui certo che la coda è stata violenta nella sua negatività di attura violenta però adesso adesso comunque anche con il Milan erano il mio bel da fare c'è stato un passione di proprietà quindi insomma poi parliamo della parte qualche scudetto l'hai vinto di qua e di là perché appena sei andato al Milan sei riuscito a vincere anche lo scudetto al Milan che non era proprio così banale erano campioni d'Italia sono arrivato dopo sono arrivato l'estate scorsa quindi erano campioni d'Italia ma non l'ho visto hai fatto la cavalcata Champions più che altro magari era un po' la novità dell'anno fino al derby esatto sulla partita mi chiedevi guarda Luca è una partita strana io ne difendo il fascino nel senso che visto da qua quindi dal fascino dalla sfonda milanista è uno Juventus Milan che è sempre uno Juventus Milan soprattutto per la generazione io sono nato negli anni 80 chi è nato negli anni 80 è cresciuto con capello limpico quindi insomma è vero che poi a Milano la rivalità vera è un'altra però Juventus Milan in quegli anni erano le due dominatrici del campionato italiano e non solo e non solo è uno Juventus Milan che per il Milan pesa tanto perché fatta al Verona non devo spiegarti cosa significa è il Milan al Verona l'ultima giornata diciamo che i tifosi spererebbero di chiuderla qua senza arrivare ancora una volta all'ultima giornata con tutto in ballo quel quarto posto francamente fa tutta la differenza del mondo sulla stagione del Milan Livio guarda abbiamo Luca Bianchini io studimo moltissimo Luca e tu so che tra l'altro presidente di istituto Piepoli te lo presento ovviamente ciao Luca è Livio Gigliuto con noi se hai delle domande eccetera guarda Luca sempre un occhio guarda in questo caso terzo ma fine sulle vicende anche non so sui giocatori eccetera guarda io una domanda così poi vi lascio insomma vi lascio a Luca che naturalmente in questo momento è il centro del dibattito vedo anche come giusto è anche forse un po' normale che sia però una domanda mi pare di aver capito Luca che tu hai seguito la transizione cioè la fase pre-Marotta alla fase post-Marotta di com'è il mio assioma diciamo l'assunto base che quello sia stato il peccato originale cioè da quel momento è mancato qualcosa la Juve questo è quello che penso poi magari non tutti la pensano così però io davvero sento la mancanza di un ma oggi Marotta categorie che magari giunto li potrà risolvere ecco tu dall'interno hai percepito immediatamente dopo un cambiamento oppure no è stata una cosa che poi non ha inciso così tanto oppure è stata una cosa che è andata via via allungandosi nel tempo ecco c'è stato uno stacco perché questo io me lo chiedo non so tanti giuventini penso se lo chiedono sì c'è stato io del pre quindi dell'era Marotta ho vissuto poco però c'è stato evidentemente perché Marotta è un caso unico un pezzo unico nel calcio italiano se ne può fare una questione di livelli come direbbe Allegri per qualcuno è più bravo di tutti per qualcuno no però è oggettivo al di là di questo che sia l'unico che nel post Galliani possa tenere in mano 1, 2, 3, 4, 5, 6 sfere del club da dal la testa ma secondo te in quale sfera è mancato più evidentemente lui? cioè quella politica con il resto del mondo calcio quello mercato bravo le trattative quello interno nel club rapporti con la società con i giocatori in che cosa è mancato secondo te in più? se devo scegliere una cosa dico non scelgo una sfera ma scelgo un modo di essere è mancata la freddezza cioè l'aggiungere dei cubetti di ghiaccio quando l'entusiasmo di Fabio Paratici soprattutto che è un entusiasta e quindi con il bene e il male che questo porta e di Andrea Agnelli e di Pavel Nedved che sono persone sicuramente più istintive di Marotta hanno poi portato a fare delle scelte che si sono rivelate scorrette o parzialmente corrette in un futuro diciamo che era un termoregolatore Marotta oltre che un decisionista magari in alcune situazioni faceva aspettare aveva persone magari non va a vedere il giocatore ma conosce dieci persone che gli possono parlare di quel giocatore e allora si viene a scoprire delle cose nuove si può sapere che quella trattativa magari è meglio aspettare 15 giorni per farla oppure che quel giocatore ha dei difetti non in campo ma fuori e poi chiaramente è una questione anche di relazione col mondo del calcio però ricorderai bene la Juventus ai quarantenni quindi quella scelta di Andrea Mieli di creare tre pilastri una fila da Fabio Paratici ma è figure che si sono presto sgretolate perché quel progetto era affascinante ma evidentemente senza Marotta ha fatto fatica a funzionare anche Fabio Paratici che aveva delle qualità indiscusse nella nella posizione che occupava nella Juventus di Marotta perché si poteva occupare di questo è una cosa molto banale che però è sempre giusto quando secondo me si traccia un percorso Juventus e arriva a dire il binomio Marotta-Paratici era perfetto perché ognuno si occupava di determinate aree sfere e Paratici poteva concentrarsi su quello che sapeva far meglio dopo trovandosi a fare anche penso anche solo il rapporto con la stampa in cui Marotta è un maestro Paratici non l'aveva mai fatto prima insomma tante cose di cui si deve occupare naturalmente si perde un po' di vista il focus Livio se devi andare ti ringraziamo ti abbiamo trattenuto lì vediamo che a Quininale insomma si lavora sempre quindi buon lavoro grazie Livio Gigliuto ciao a tutti ciao a voi ciao Luca ciao Livio allora io rubo una decina di minuti proprio face to face magari botta risposta guarda Luca ti invito a fare anche il gioco contrario se vuoi domande se che tu me le fai io te le faccio Milinkovic va al Milan? Difficile ma è il preferito di Pioli beh Pioli Pioli gli manca quel tipo di giocatore io sono abbastanza d'accordo eventualmente su questa idea del Milan il Milan l'ho visto tanto tantissimo anche lo sai Tele Lombardia QSVS praticamente ho viste tutte le partite del Milan quindi ho cognizione di causa e credo sarebbe un tassello giusto giusto senti ma c'è stato scusa no no ti dicevo se vuoi la spieghiamo in 20 secondi invece che due perché l'abbia un minuto e dimmi anche se secondo te la Juve potrebbe tornare sul gioco giocatore o no a livello di opinione personale si parla di un prezzo intorno ai 30 milioni sarebbe sceso a questa cifra un anno della scadenza sì assolutamente l'ho tito in qualche modo io credo che faccia sapere che il prezzo di partenza è 40 perché lo stanno dicendo in tanti però io credo si possa prendere a 25-30 mi dicono che lascerà la Lazio sicuramente per quanto riguarda il Milan quello che abbiamo scritto è che per Pioli è da tanto tempo il giocatore ideale per quella posizione lo utilizzò da falso numero 10 alla Lazio in quel 2015-16 che era l'ultimo anno di Pioli alla Lazio e il primo anno di Milinkovic alla Lazio andò bene ovviamente perché il giocatore è forte certo che è un po' distante dalla politica di Elliot e di Redbird adesso che è una politica di giocatori che di anni non ne hanno magari 28 ma ne hanno 21 non ne hanno 31 ma ne hanno 23 eccetera Milinkovic è ancora nel massimo della sua parabola però la sua parabola in qualche modo si può ipotizzare che tra forse anche un discorso diciamo che anche c'è un discorso che è potenziale da un lato è il salto di livello comunque giocare a Lazio è tanta roba giocare in queste piazze è ancora un'altra detto questo c'è anche magari un discorso di stimoli cioè il giocatore adesso magari invece stimolato al rialzo puoi ritrovare una parabola nettamente ascendente che sia un po' cristallizzata detto che il giocatore non è che abbia fatto proprio pena ti chiedo declinato sulla Juventus un'opinione personale su cosa può succedere se secondo te è un giocatore su cui la Juve tornerà presente o no come tua idea prima dovresti dirmi chi è il direttore sportivo anche se ho un'idea mi sa che ce l'abbiamo e chi sarà l'allenatore cento per cento giunto lì ti dico io vediamo in questo in questo caso e l'allenatore beh se Allegri è un grande sì lo sai Allegri è un grande sì però dalla tua risata mi fa pensare che tu non pensi che sarà Allegri allora chi lo fa Allegri guarda abbiamo abbiamo la percentuale secca è tredici virgola due zero due tre per cento di riconferma proprio aggiornata a ieri pomeriggio siamo bassini siamo bassini quindi bisognerà vedere chi è il nuovo se sarà un allenatore che prevederà quel tipo di calciatore diciamo che per le grandi probabilità la Juventus è stato su Milinkovic quante è stati uno due tre quattro diciamo che per il calcolo e probabilità potrebbe anche andare su altri quindi ti dico no ma solo per questioni statistiche ci sta ci sta senti ma giuntoli un tuo giudizio l'hai mai incrociato conosciuto ti sei fatto un'idea professionale al netto poi dell'exploit ottenuto da tutto il mondo Napoli quest'anno la tua opinione sul giuntoli dietro sportivo l'eventuale scelta della Juve giusta o sbagliata e se giuntoli fa scegliere i giocatori agli allenatori oppure no che questa è una cosa che in qualche modo mi hai fatto pensare tu adesso allora detto che la grande premessa è che diciamo che il mio tema in cui posso parlare con un po' di competenza è forse il Milan quindi giuntoli faccio fatica però te lo dico nel senso che non è una delle persone che ho conosciuto meglio però conosco persone che lo conoscono molto bene è una figura sicuramente molto utile nel rapporto con la squadra che è una cosa che la Juventus secondo me ha bisogno quindi quel gestore nel rapporto società squadra nella quotidianità sono curioso di capire con chi lavorerà a livello di collaboratori chiamano i caffetti scout tracci destri quello che era Maurizio Micheli a Napoli che è una figura assolutamente molto importante molto legata al presidente della Orentis lì ci sono degli equipi particolari che alla Juventus non ci saranno perché il presidente è là e il presidente qua è molto diverso per idee e tipologia pensa che non so se lo sapete ma lo dico io Micheli non è assunto da Napoli va da una società di della Orentis come si in un mondo particolare quello di Napoli e Micheli è sicuramente un uomo dell'Aurentis anche se con Giuntoli hanno lavorato benissimo ma non è uno della sua squadra ecco questo quello che è importante ribadire mi hanno sempre raccontato che Giuntoli è molto presente sull'Italia a livelli molto alti un po' meno sull'estero quindi sono curioso di capire se alla Juventus ci sarà qualcuno che farà che farà estero quindi diciamo il lavoro dei rival dei Longori dei Tognozzi se resterà quindi quello sono curioso se fa scegliere giocatore allenatore onestamente non mi sembra perché in alcuni casi è successo Mancicelotti ad esempio ha scelto Lozano per dirne uno lo ha portato però in generale mi sembra che sia un'eccezione non una regola c'è un retroscena Massara Juventus che oggi vale la pena essere raccontato considerato che è uno scenario mi pare che insomma noi almeno per le notizie che avevamo noi già da un mese un mese e mezzo abbiamo escluso ecco però c'è qualcosa da raccontare su questo aneddoto è stato anche non solo Gazzetta ma anche altri giornali sono stati per un po' su questa ipotesi sì no non credo ci sia un retroscena io credo che non siano stati vicini mai anche se è stata un'ipotesi sicuramente considerata anche perché i professionisti di quel livello in Italia sono pochi però ho sempre sentito Massara molto legato al Milan e molto con la testa sul Milan del prossimo anno che è un altro bell'argomento interessante per gli appassionati di calcio mercato perché ci sono soldi magari tanti magari un po' meno magari tantissimi ancora da stabilire in base anche al piazzamento del Milan però è una squadra da ricostruire in alcune sezioni largamente quindi è divertente interessante capire dove si sceglierà di intervenire chi vince tra Juve e Milan domenica? domenica? sì pareggiano che per il Milan è come una vittoria chi vince tra Inter e Manchester City la finale di Champions? Manchester City ma di poco di poco di poco e beh l'Europa League chi la vince? lo so non so ma è sempre così a ispirazione diciamo il Siviglia perché alla Roma mi sembra che manchino tanti pezzi tanti tanti pezzi Luca ovviamente quando vuoi anzi quando voglio tra virgolette io provo a disturbarti ovviamente continuo a seguire il tuo lavoro ovviamente spero che tu abbia sbagliato il pronostico di domenica io penso spero che la Juve vinca anche se il valore di questa partita sicuramente è incredibile ma per la vale qualcosa per Allegri ecco questo forse sì forse chi lo sa secondo me no non per il futuro di Allegri ma per Allegri certo certo penso anche se potrebbe dire a tutti sono arrivato un secondo certo questo ah velocemente ti ringrazio ti saluto 3000 persone ancora qui alla grande ci fa piacere dopo un'ora e mezza di diretta il bienio di Allegri che ovviamente qua è il dibattito più feroce che esista no però visto anche un attimo da chi l'ha vissuto sia un po' dentro sia un po' fuori no che bienio è stato e quante colpe e alibi ha secondo te Max in questo bienio è un processo per grandi avvocati perché c'è materiale per tutti per delle per delle requisitorie veramente di alto livello è chiaro che qualcosa è mancato chiaro che qualcosa è mancato non è stato lo stesso Allegri della sua prima fase evidentemente gli alibi ci sono e neanche devo spiegarteli sono talmente grandi che sono grandi come un tribunale e quindi occupano tutta la strada il tribunale a Milano è più grande della strada in cui sta quindi non c'è bisogno di dire quali sono sono enormi però allo stesso tempo si può si può serenamente dire che che è mancato qualcosa che l'Allegri prima versione era diverso l'Allegri seconda versione che era un po' coginito all'inizio che su alcuni giocatori avrà anche fatto bene ma con altri giocatori è andato assolutamente meno bene e mi colpisce come Di Maria Chiesa sono giocatori che sono arrivati Vlaovic alla fine in qualche modo con dell'attenzione sottostante si dice scontenti io non ci lavoro più quindi già è difficile parlare con i giocatori ma magari con qualcuno vicino ai giocatori si parla io non lo faccio più perché mi devo occupare di altri calciatori però mi sembra evidente che qualcosa nel feeling Allegri Vlaovic Allegri Chiesa Allegri Di Maria sia mancato sono giocatori importanti quindi non sono mancati detto degli alibi e delle mille cose non sono mancati solo i risultati cioè Allegri poteva forse fare meglio anche in qualche altro ambito mi pare di capire le tue parole le relazioni e lo sfruttare i momenti dei giocatori forse che sono arrivati sempre nel momento sbagliato anche Di Maria il momento migliore di Di Maria quest'anno sì è arrivato in un momento in cui non c'erano le partite sì Nant però nelle partite chiave anche a fine anno non c'è stato visto da fuori visto da fuori sicuramente non è andata non è andata benissimo però è complicato io vedo le partite ogni tanto perché qualche volta non riesco a vederle e poi leggo quello che scrivono i miei colleghi quindi è un po' difficile però sicuramente mi aspettavo chiaramente Allegri ne fa lui stesso un discorso di risultati è questo dire una riga detto non è tornato il Champions League è stata un'eliminazione storica dopo anni di qualificazione dai Giro negli ottavi di finale insomma semifinale di Europa League che male non è ho diritto ad aspettarsi di andarci in quella finale Luca grazie grazie davvero Luca Bianchin io ti ridistrumberò dovesse accadere eccetera ovviamente sappiamo che non sei più sulla Juventus ogni giorno stimiamo il tuo lavoro io personalmente alla grandissima ringrazio tutti coloro che sono venuti a trovarci Livio Gigliuto che è stato con noi c'è stato Antonio Angelini c'è stato anche qualche guizzo di Luca Toselli vi dico che Tiago Motta così chiudiamo con una piccola cosa che riguarda questa diretta siamo ancora in 3.000 farei altre due ore con voi ragazzi due facciamole facciamole altre due ore no non posso farlo mi chiamano a lavoro giustamente allora allora stasera 22 ore 22 il bar di Mr. Gatta proprio con gli artigli stasera ho sentito il ministro mi ha chiamato prima ha degli argomenti anche a sorpresa se vogliamo io vi dico che Tiago Motta ovvero il procuratore che tutti sanno occuparsi di Tiago Motta ha ricevuto una sola chiamata oltre al tentativo già progettuale di dialogare per proseguire insieme fatto da Bologna ed è ed è stato fin qui il Nizza ok il Nizza il Nizza è pronto a fare un'offerta ufficiale a Tiago Motta qualora Tiago sia interessato alla cosa quindi attenzione perché non è che la Juventus contatti diretti della Juve con allenatori uno o due contatti indiretti c'è una valutazione ad ampio raggio la situazione Allegri in mano ovviamente alla proprietà le quotazioni le aggiorniamo a sto punto stasera massimo domani e poi chissà magari arriva un tweet a sorpresa Juventus è qua sempre presenti JB non muore mai JB non muore mai non muore mai Grazie a tutti.